Eccoci qua, al secondo piano andiamo a vedere una camera della tipologia family. Sono delle camere completamente ristrutturate con due ambienti separati. Da una parte un letto matrimoniale e dall'altra parte una porta scorrevole che divide appunto i due ambienti, tra zona adulti e zona bambini. Ogni camera ha una sua particolarità, adesso guardiamo la tipologia family room, la camera 202. Eccoci qua, con un bel letto matrimoniale comodo, con un materasso memory water foam, il suo armadio molto capiente, aria condizionata in due ambienti, sia dal lato matrimoniale che dall'altro lato. Parete scorrevole che divide i due ambienti. Apriamo la porta e da questa parte troviamo un letto singolo che si può alzare e diventare il castello. In questa posizione ci sta molto comodo un lettino da campeggio oppure, se proprio si vuole, si può inserire un secondo letto per avere il doppio letto steso. Doppio televisione, da un ambiente e dall'altro, un altro armadio capiente e la comodità di avere due balconcini separati. Adesso vi farò vedere anche il bagno. Andiamo pure a vedere il bagno di questa tipologia di camera. Anche qui un bagno completamente rinnovato, con un box dozza veramente di livello. Bello comodo, grande, con doppia finestra, sia da un lato che dall'altro.